Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale Antonio Mazzeo Hanno partecipato rappresentanti Delle autorità civili, militari e religiose I dipendenti e i rappresentanti Della società civile La mattinata è stata occasione Anche per fare un bilancio Dell'anno quasi concluso E stilare le priorità per il 2023 Dubbiamente siamo alla fine di un anno Che è stato un anno molto delicato Per non dire pesante Pensate che iniziamo Con la prima settimana dell'anno Che il Covid ci portava 96.000 contagiati Nell'arco di una settimana Il record assoluto in questi due anni di pandemia Poi nel momento in cui sembrava Fermarsi la morsa della pandemia Effettivamente È stato poi così Abbiamo avuto il 24 di febbraio La guerra e dopo la guerra I riflessi sul piano economico Dall'occupazione dell'Ucraina Ecco il costo dell'energia Ai costi delle materie prime Abbiamo cercato di affrontare Con razionalità E capacità Di guardare con speranza Al futuro E l'augurio di quest'anno È che sia l'anno Nel quale Veramente Da un lato Si respira Progressivamente Quello che è l'aspirazione Alla pace Ma dall'altro Ecco La necessità Di concretizzare Tutta una serie di interventi Che dal PNNR A quello Che sono i fondi europei Ci possano Essere volano Per la nostra economia E dall'altro Grande solidarietà Solidarietà A chi si trova A vivere condizioni Di povertà Perché indubbiamente La situazione economica Ha determinato questo Solidarietà Verso i migranti Che per la prima volta Accadrà Fra due giorni Qua in Toscana Arriveranno Nel porto di Livorno Solidarietà Nei confronti Di coloro Che vivono Negli ospedali O comunque Nei luoghi Della nostra sanità pubblica Delle condizioni Che richiedono Eccellenza Nell'operare Un anno Come per tante famiglie Tanti cittadini Un anno Di luce E di ombre È stato l'anno In cui pian piano Stiamo provando A uscire Dalla pandemia Che ha segnato La vita di ciascuno Di noi Ma è stato anche L'anno Purtroppo In cui è scoppiata Questa terribile Guerra in Ucraina Che ha segnato La vita Di tante donne Di tanti uomini Però è stato un anno In cui ci siamo presi Il compito Di cercare di ripartire I problemi aperti Sono tanti Penso Alla questione Legata al caro Bollette Penso Alle tante Troppe morti Sul lavoro Che ancora oggi Squodono Le nostre coscienze Penso alla necessità Di offrire Più diritti A chi oggi Non ne ha Dare più voce A chi ha Meno voce Insomma Da parte nostra L'impegno Di cercare Di lavorare Nella direzione Di mettere in campo Come abbiamo fatto Anche in quest'anno Perché insomma A me piace Ricordare Due o tre Leggi Tra tutte La legge Che ha istituito Lo psicologo di base È nata dall'esperienza Di questi anni Molto complicati E mette a disposizione Di tutti Una figura Che può supportare Dal punto di vista Mentale Oppure Penso al progetto Rigenerazione urbana Con cui Noi con i risparmi Dei costi Della politica Mettiamo a disposizione Delle ragazze E dei ragazzi Più giovani La possibilità Di disegnarsi Un pezzo Della loro Comunità Oppure Le comunità Energetiche E tutto questo È in linea Con la nostra idea Cioè Giovani Ambiente Lavoro Le priorità Devono essere Quelle che per noi Sono un po' La bussola del lavoro Già in questi anni Lavoro Ambiente Formazione In linea con Quello che è stato Il lavoro Anche di Quest'anno Vorrei però Prendere un impegno Che è anche un modo Per fare gli auguri Alle toscane E toscani Un impegno Insieme a tutti Gli altri Eletti Nell'assemblea Legislativa Cerchiamo di costruire Le condizioni Perché nel prossimo Anno mettiamo Sempre più in campo Proposte di legge Che poi si trasformano In legge Per offrire Più diritti E più opportunità Soprattutto Ai giovani E alle donne E in arrivo La proposta Con cui Finalmente Metteremo A disposizione Delle giovani Coppie L'asilo nido Gratuito Sotto un certo Livello di sé Questo sarà Uno dei primi Delle prime iniziative In questa direzione Questa deve essere La strada Da tracciare Nei prossimi anni E poi fare in modo Che la sanità Arrivi sempre più Vicino ai cittadini Con un impegno Che un bimbo Che nasce Nel paese Più periferico Della nostra regione Abbia gli stessi diritti Di un bimbo Che nasce a Firenze Tempo di bilanci Anche per i consigliari Regionali Che hanno fatto il punto Sull'anno appena passato E sulle priorità Per l'anno 2023 Il consiglio regionale A mio avviso Ha lavorato bene Ha lavorato in maniera Molto intensa Finalmente abbiamo avuto Una riscoperta Dell'attività politica Anche dialettica Questo non lo nascondo Rispetto alla nostra libertà Di agire In consiglio regionale Come gruppo Italia Viva Grande soddisfazione Come vicepresidente Per aver portato a casa Due risultati importanti A favore dei giovani Penso alle leggi Che adesso andremo ad approvare Sull'identità culturale Toscana Che dà una risposta Ai ragazzi 18 anni Rispetto alla possibilità Di entrare in contatto Con la Toscana E a esperienze di carattere culturali E soprattutto a quella di iniziativa Che ha messo tanti giovani A lavorare insieme A riscoprire elementi Di relazioni Un consiglio regionale Che comunque deve Lavorare ancora di più E meglio Rispetto agli strumenti Di programmazione Penso a quello che riguarda Il piano regionale di sviluppo Soprattutto E al piano dei rifiuti Due atti che nel 2023 Non potranno mancare Per il 2023 Un impegno importante A fare delle scelte Importanti per la Toscana Penso sul piano regionale di sviluppo Che deve vedere I territori protagonisti E un piano dei rifiuti Soprattutto L'assunzione di responsabilità Importanti Decisioni Che mancano Da troppi anni In Toscana A margine di queste due Grandi decisioni Che ci vedranno impegnate A mio avviso Nei prossimi tre mesi Dobbiamo definire Come allocare Le risorse comunitarie Dei prossimi sette anni Queste risorse comunitarie Devono essere allocate A favore di quei territori Che meno di altri Hanno beneficiato Delle risorse del PNRR È stato un anno È stato un anno strano È stato un anno in cui Secondo me Maggioranza e opposizione Non hanno trovato Un modo di dialogare Noi siamo Stati sempre considerati Da parte della maggioranza Un qualcosa Da non coinvolgere Nelle decisioni Un qualcosa Da non far partecipare Alle decisioni Non è così che si amministra Non è così che si governa O meglio Se si sceglie di governare Escludendo sempre a priori Non ascoltando mai I consigli Suggerimenti Che arrivano all'opposizione Poi ci si prendono Reoneri E quando puoi Porti un bilancio E ti fai appello A 400 milioni Di soldi Che dovrebbero arrivare Dal payback Che se arrivassero tutti O si sana il bilancio Della regione toscana E si mettono in ginocchio Decine di aziende Che operano il comparto sanitario O si salvano le aziende E non si salva la regione toscana Magari a volte Ascoltare anche Suggerimenti Le proposte di legge Che arrivano da parte nostra Non sarebbe male Noi chiudiamo un anno Con una decina Di proposte di legge presentate Abbiamo la presunzione Di credere Che le proposte di legge Che presenta Fratelli d'Italia Non siano proposte di legge Tutte stupide O inattuabili O inutili O pleonastiche Sono tutte Bloccate in commissione Il buon proposito È uno È quello di riportare La Toscana Dove merita di stare La Toscana è la regione Che storicamente Tutti individuano Come Il faro Della sanità nazionale E oggi Non è più un faro Ma anzi Sta tra le peggiori d'Italia Non è più La regione guida O tra le regioni guida Nel campo delle infrastrutture Anzi Un tempo si diceva Che da un punto di vista Infrastrutturale La regione toscana Era Una delle grandi Regioni del nord Oggi La regione toscana Da un punto di vista Strutturale È una Delle regioni Del sud In difficoltà Ci si può ricordare Tante cose La regione toscana È intervenuta Su tanti ambiti Quello che le opposizioni Hanno fatto Anche in maniera Costruttiva È quella di lavorare Su La tematica Principale Quella della sanità Quindi andare A cercare Quelle difficoltà Che riguardano In sostanza Due temi Che i cittadini Toscani Vivono tutti i giorni La prenotazione Per una visita medica Quindi le liste D'attesa Quindi il non funzionamento Del cup Quando magari ci viene detto Che una lista È chiusa E in realtà Non è così Ma si rimanda Poi magari La chiamata Al mese dopo Mettendo in grave Difficoltà i cittadini Che magari Per una visita cardiologica Devono aspettare Anche un anno e mezzo Per fare un esempio Ci si ricorda Che E a fronte di questo Il grande sforzo Dei nostri medici E infermieri Però Al contempo Quando leggiamo Le note Degli ordini Dei medici E degli infermieri Sui territori Notiamo Notevole difficoltà Quindi questo è il tema Principale Che è quello sanitario Ma anche dal punto Di vista dell'ambiente Non siamo messi bene Lo scandalo del Cheu È sicuramente Un tema centrale Di questo anno È stato un anno Sicuramente impegnativo Perché è coinciso Anche con Una grave emergenza Legata al conflitto Tra Russia e Ucraina Che ha coinvolto Tutti gli attori mondiali Con conseguenze Che non ci saremmo aspettati E soprattutto Sono coincise Col momento Con il quale Stavamo uscendo Dall'emergenza Pandemica Questo ha significato Che se prima Si lavorava già In emergenza Pur senza Necessità particolari Si è continuato Ad andare in questa direzione Per certi punti di vista E quindi di nuovo Questa giunta Non ha dimostrato Dal punto di vista Dello sguardo Volto al futuro Nessuna attenzione Semplicemente Un vivere alla giornata Con ciò che sia Scaricando la responsabilità Della propria incapacità Organizzativa E amministrativa Sui vari attori Il governo Da una parte Il conflitto Dall'altra E le contingenze Internazionali Dall'altra ancora Continuare Con un'attenta Attività di monitoraggio E ispettiva Ciò che fa la giunta Continuare a dire Cittadini Tutto ciò che non va E fargli capire Che sono attori Partecipi Della politica Che devono ancora più Diventarlo Il Movimento 5 Stelle Si strutturerà Sempre di più Sui territori E lo farà In questo momento Parlando di alcuni Argomenti Che stanno a cuore Delle persone Le comunità energetiche Uno strumento eccellente Per superare L'attuale crisi Amministrativa E la questione Della sanità Appunto Dobbiamo riportare La sanità Vicino ai cittadini E la scuola La cultura L'istruzione Che deve finalmente Ritornare a essere Una parte centrale Anche della nostra attività Sicuramente Un anno Un anno particolare Nel senso È stato un anno Diciamo Di gruppo inizio Di Toscana domani Un gruppo che Come sanno Tante persone Chi mi ha letto Chi mi ha dato fiducia Ha cercato di portare Dentro questo consiglio regionale Le istanze del territorio Del territorio che mi ha letto Ma comunque sia Ecco Di portare anche un po' Di quel mondo civico Che molto spesso è Come dire Visto in modo marginale Rispetto a quello che è La dinamica politica Più stretta È stato un impegno concreto Un impegno Caratterizzato Da pragmatismo Da parte mia E sicuramente Ecco Non posso che essere Come dire Farne un bilancio Assolutamente positivo Ciò non toglie Che naturalmente Occorre fare molto di più Occorre Diciamo Avviare anche Un maggior impegno Sul fronte del controllo Dello stimolo Anche a certe partite Che sono ancora aperte Penso tra tutte Al piano dei rifiuti Penso ancora A questioni aperte Come La partita che riguarda Il trasporto pubblico locale Ci sono tantissime questioni Che riguardano Strettamente I territori E che ancora oggi Diciamo Hanno necessità di risposte Continuare nel lavoro Continuare nel lavoro Cercare sempre Di impegnarsi Di dare il massimo E soprattutto Rappresentare i serrisori Grazie a tutti Grazie a tutti